Il Vangelo di oggi Gesù assume in modo esplicito la postura dell'insegnante e del maestro con due espressioni che meritano una attenzione specifica. La prima espressione, la prima esortazione quasi calorosa per gli allievi, per i suoi discepoli, non sia turbato il vostro cuore. Gesù esplicitamente rassicura i propri allievi e i propri discepoli ed è questo che anche un insegnante umano è chiamato a fare, cioè il fatto di rassicurare, consolidare l'autostima dei propri allievi in modo tale che ciascuno di loro affronti il cammino di apprendimento con una spinta, una motivazione interiore che non sia pregiudicata da un difetto di autostima come invece talvolta può accadere quando ci sono da parte degli insegnanti dei giudizi svalutanti o non sia mai giudizi svalutanti che vanno a toccare anche la persona stessa. E questo è un primo elemento che il Vangelo di oggi ci offre come indicazione anche di tipo pedagogico per fare meglio il nostro lavoro. Vi è però anche una seconda indicazione che da un certo punto di vista ci potrebbe spiazzare o potrebbe risultare forse eccessivamente sfidante. Di fronte a una domanda esplicita di Tommaso che chiede a Gesù ma come potremo seguirti, raggiungerti, se non conosciamo la via, non sappiamo dove vai, Gesù risponde in modo perentorio. Io sono la via, la verità, la vita. È chiaro che un insegnante terreno che non sia anche figlio di Dio non potrà mai dire di se stesso io sono la via, la verità, la vita. Gli allievi lo guarderebbero con una certa compassione. Però c'è qualcosa di questa affermazione che invece siamo chiamati affari nostri. Perché quando chiediamo agli allievi di seguirci lungo un percorso, di seguirci lungo un cammino, in fondo noi chiediamo a loro di seguirci in un cammino che noi stessi abbiamo compiuto e stiamo compiendo per primi. Cioè in realtà se io non ho fatto mio non solo il contenuto intellettuale di ciò che insegno ma anche il suo significato profondo, non l'ho fatto entrare a far parte del tessuto intimo della mia vita culturale ma anche della mia vita personale, dei miei progetti di vita, in fondo non ho titolo per insegnare ad altri nel senso di chiedere ad altri di percorrere quella stessa strada. Ecco che allora in un certo senso l'insegnante è chiamato ad essere per i propri allievi via verità e vita, non nel senso che troviamo nell'espressione resa famosa da Gesù ma nel senso di avere percorso quella via, essersi abbeverato alle fonti di quella verità e averne fatto una parte significativa, un tessuto profondo nella quotidianità della propria vita. Ecco se anche noi potremo essere in questo senso più limitato via verità e vita potremo chiedere agli allievi di seguirci lungo il cammino della conoscenza e in qualche modo avremo titolo per osare, sperare di essere una buona guida, un buon insegnante, un buon maestro.